Oggi parliamo del falso mito che ti sta fottendo la vita. Ciao a tutti, se mi sentite scrivete pure un ciao nei commenti. Per chi non mi conosce sono Fabio S, da più di dieci anni aiuto bravi ragazzi a diventare bravi con le ragazze e molto più sicuri di loro stessi, ma non nella maniera in cui potresti pensare tu o nella maniera in cui altri cercano di fare. Allora, prima di iniziare ti ricordo che se fai sul serio a voler migliorare con le donne è di iscriverti al webinar che trovi in descrizione. Se poi qualcuno lo scrive nei commenti mi fa un piacere. Il link è seduzione.com slash webinar. Quindi seduzione.com slash webinar. Perfetto, ciao Andrea. Allora, che succede? Quindi mi sentite bene? Perfetto. I ragazzi molto spesso vengono da me perché vogliono essere più magnetici, sapere cosa fare con le ragazze e anche se sono intelligenti, di normale presenza, con lavori avviati e comunque persone determinate, mi raccontano come le ragazze alla fine li ignorino, li tirano pacco e quelle che ci stanno non sono proprio quelle che loro vorrebbero. Ora, tutto questo li fa sentire di solito impotenti e a volte veramente disorientati e quello che li dico sempre è solo una cosa ed è una cosa molto specifica ossia per uscire da quella situazione bisogna chiedere aiuto. Ora, vedi, in Italia c'è il mito e qui torniamo al titolo della live del mi sono fatto da solo cioè ed è veramente un mito che ha fatto più vittime del cop virus non sto scherzando è stupido farsi da solo e lo fai peggio ci metti più tempo è completamente fuori di testa nessuno ce l'ha fatta da solo nessuno compreso tutti quelli che dicono oh sì, io mi sono fatto da solo nessuno mi ha aiutato perché in realtà in Italia ciao Sara perché in realtà in Italia significa molto spesso diciamo io mi sono fatto da solo ma intendiamo io non ho avuto raccomandazioni ma il punto è che noi diciamo mi sono fatto da solo e ci sono quelle persone che ci credono che tu ti sei fatto da solo ora tu non impari la matematica a scuola da solo la impari grazie a un professore tu non impari a suonare uno strumento lo impari perché qualcuno te lo insegna ti faccio un esempio io da bambino amavo Bruce Lee e quindi amavo il jet kundo che era l'arte di Bruce Lee una sorta di kung fu modificato di Bruce Lee il karate invece mi stava ciao Ale il karate invece mi stava non dico antipatico però era alla fine nei film di Bruce Lee il karate veniva trattato sempre male quindi non è che mi piaceva particolarmente il karate ora cosa è successo che per vari motivi che non sto qui a dirti in uno dei due tra jet kundo e il karate il jet kundo mi piaceva il karate molto meno uno dei due l'ho fatto da solo e un altro ho avuto un maestro ora secondo te in quale delle due sono diventato cintura nera ma soprattutto quale delle due ho padroneggiato in quale delle due sono diventato bravo quella con l'aiuto nonostante fosse quella che mi piaceva di meno ci sono persone che guardano queste live o in generale tutte le live su un argomento e non decidono mai di fare una minchia questo mi ricorda di di alcuni ragazzi con cui uscivo molti molti anni fa carissime persone che però studiavano e studiavano e con la scusa di essere studenti universitari senza un quattrino non seguivano mai nessuno cioè non arrivavano mai al punto di dover pagare qualcuno quindi magari ebook trovati qui e là articoli di blog forum all'epoca andavano questi forum assurdi e che è successo che dopo qualche anno io tenevo i corsi di seduzione il sabato sera e loro stavano per le stesse strade a fare gli stessi maldestri approcci inutili e questa è una cosa che mi fa riflettere perché io ho passato a girare il mondo a essere stato con ragazze che fino a poco tempo prima pensavo che erano fattibili solo per gente bella o ricca o famosa come Brad Pitt Leonardo DiCaprio e gente vaia e invece no e perché questo? volevano farcela da soli ora non importa davvero in cosa vuoi migliorare non importa se sei un uomo se sei una donna se sei giovane se sei vecchio se vuoi cambiare una situazione la cosa più importante è che devi farti aiutare ora a proposito se vuoi che io ti segua ti consiglio di guardare il webinar Project S e fare quel passo verso il futuro che desideri e non il presente che è e sarà sempre lo stesso perché ricorda che la differenza tra oggi e domani è semplicemente che sarai più vecchio ora se hai fino ai 25 anni magari di questa cosa ancora non te ne sei accorta ti sembra sempre di che hai tempo ti sembra sempre che va meglio che le cose vadano meglio o al massimo uguale è una grande cazzata superati i 25 ti assicuro che le cose non è che andranno peggio andranno come tu le costruisci quindi se tu le costruisci bene tendono ad andare bene ma se tu le lasci andare tendono ad andare sempre peggio e la cosa più assurda è che poi il tempo anche vola tra i 30 e i 40 e un attimo ora a te ti sembra lontanissimo magari o a te ti sembra un ricordo del passato ma se ti sembra un ricordo del passato vuol dire che il tempo ti sta passando ancora più veloce ma tutti quelli come dice Alessandro a 28 anni è già straconfermo sì il tempo vola già dopo i 25 anni è molto semplice io ho scoperto dalla mia esperienza lavorativa con tutti i ragazzi che quindi avevano varie età che da 25 anni c'è un crollo cioè se non lavori sulla vita se non lavori sulle relazioni se non lavori su alcune abilità per esempio le abilità seduttive queste precipitano e questo vale per i maschi e per le femmine tra l'altro quindi in sintesi scegli qualcosa da imparare fatti un'idea di chi vale e chi no scegli qualcuno e chiedi di aiuto io di solito cosa faccio è molto se ti posso dare la mia esperienza perché in questa l'ho sviluppata a livelli veramente alti allora scelgo un argomento metti caso che voglio imparare l'ipnosi qualunque cosa mi faccio una scorpacciata di video su youtube webinar articoli ebook ma non per imparare e quella è la parte importante cioè in questa in quella fase iniziale di scorpacciata io me la faccio la scorpacciata per farmi un'idea e da dove partire perché so che se inizio a imparare ma imparare queste mille cose completamente diverse mi incasino solo la testa e allora tu devi arrivare al punto di scegliere una cosa e poterla seguire di solito è una persona perché è un'idea ora nel momento in cui scelgo quella persona scelgo qualcosa di quella persona ora a seconda dell'età le cose sono cambiate anche del tempo per esempio c'era un periodo in cui mi piacevano molto gli ebook o i libri a seconda della persona molte volte erano degli autori che avevano fatto i libri e andavo la filtrinelli e compravo il libro altre volte erano ebook soprattutto per quelli inglesi ovvero i propri manualoni di 3-400 pagine poi man mano sono diventati i corsi però la prima fase erano molto manualistica la fase manualistica poi ci sono arrivati i corsi dal vivo mi sono piaciuti i corsi dal vivo i corsi dal vivo hanno il problema che tu devi essere molto devi essere molto motivato cioè non è che vai al corso dal vivo per vedere com'è se vuoi vedere com'è è meglio fare un video seguire un videocorso un audiocorso leggere un manuale il corso dal vivo devi essere già focalizzato determinato cioè del tipo oh cacchio lo voglio fare sì sono convinto perché se tu vai a fare un corso dal vivo poi ti metti in ultima fila non ci andare non è la scuola dalla scuola non hai imparato un cazzo se no ce la voglio dire dalla scuola non si impara niente e quando vai a fare un corso dal vivo e ti metti in ultimo posto non impari un cazzo esattamente come la scuola quindi se vai a un corso dal vivo devi andare con la mentalità dal primo banco e poi invece in questa fase mi sono spostato verso le consulenze one on one cioè quello che preferisco è cercare la persona che mi può aiutare e cercare il modo di contattarla di persona al telefono al minimo ma possibilmente di persona ovviamente questo prevede di solito un viaggio di solito prevede un viaggio con l'aereo quindi i costi li evitano però così puoi fare domande molto specifiche questo è il modo in cui faccio e questo è il modo secondo me più veloce in assoluto ha un investimento ma non c'è cioè è veramente la differenza tra chi per imparare qualcosa ci mette un mese tre mesi un anno se è proprio una cosa difficile e chi dopo dieci anni sta ancora allo stesso punto è veramente una cosa un modo di imparare cioè si impara la seduzione tu impari la seduzione ma hai imparato a imparare perché se tu non sai imparare che tu studi la seduzione che ti guardi 2500 video di seduzione al giorno 3700 live 554 articoli di blog non cambia un cazzo letteralmente un cazzo non lo fai gioca alla playstation ho comprato The Last of Us parte 2 è bellissimo gioca a The Last of Us fatti una gara a MotoGP ma non perde tempo a guardare i video di uno che ti parla di seduzione se tu non hai intenzione di fare è completamente inutile te lo sto dicendo contro i miei interessi cioè a me youtube con te i visitatori sia se sono dei deficienti sia se sono gente che lo vuole fare sia se sono bravi sia se sono non gli frega niente ma a me non interessa parlare se tu non vuoi fare qualcosa è proprio una cosa molto semplice perché chi mi conosce lo sa io il master il master di seduzione lo faccio ormai da il master avrà 7 anni sul peggio i corsi 10 anni ma il master ha 7 anni e non ho mai super cioè ho sempre scelto i 7 allievi al massimo in qualche corso c'erano 12 presenti ma perché? perché magari qualche ex allievo veniva a salutare io molto volentieri prendevo l'aula da 12 persone in modo tale che i nuovi allievi potessero conoscere anche quelli vecchi per vedere com'era come non era per fare domande ma gli allievi erano 7 perché? perché 7 è il numero massimo che io posso seguire c'è un motivo quindi ho già dimostrato abbondantemente che io voglio parlare solo con chi vuole fare non con chi vuole ascoltare un cretino che parla perché sennò ti guardi i video di x y z che ti dicevo i nomi ma secondo te dai secondo te mica sono così scemo ti guardi i video di x y z ti fai le seghe mentali o anche fisiche se ti piace o se te l'altra sponda e va benissimo va benissimo non guardare questo qua guarda se tu agisci non importa se agisci con me o vai da x y z doppia v o l'alfabeto aramaico non me ne frega niente l'importante è che fai qualcosa cioè faccio questo lavoro perché mi piace insegnare se non posso insegnare a te mi piace che tu impari da qualcun altro è molto non so madre Teresa di Calcutta non è una cosa altruistica è proprio che io vedo chi non agisce come un peso sulle mie spalle cioè mi dà proprio fastidio non è minimamente altruistico è proprio egoistico dico a che palle ma via via solo persone che agiscono positive ok ovviamente se sei così fuori di testa che dopo quello che ti ho detto vuoi che sia io quello che ti aiuto guardati webinar project S non è il webinar del 21 giugno o meglio non è che l'ho rifatto nuovo l'ho semplicemente tagliato perché quello che avevo detto il 21 giugno che non ci sarebbe stato più non c'è più mi sono svegliato alle 5 del mattino dei lunedì per toglierlo quindi però guardalo perché prima di tutto è tagliato ci metti meno tempo quindi magari è un po' più veloce e tutto quello che è detto là è valido e c'è scopri veramente cose interessanti ora io direi che se c'è qualche domanda io volentieri mentre ti ringrazio e ti dico nel frattempo voi che state seguendo in diretta sparate pure un mi piaci o un mi fa cagare per fortuna non c'è il mi fa cagare su facebook però sarebbe sarebbe bello tipo in diretta mi fa cagare ed esce la cacchina no la cacchina bravissimi mettete pure un mi piace se avete domande sparate pure io sono qui nel frattempo vi ho detto di guardare il webinar iscrivetevi anche se vi siete già iscritti all'altro vi potete tranquillamente riscrivere un'altra volta non c'è problema il webinar ci sta in vari orari quindi ve lo potete tranquillamente guardare magari tra 10 minuti 20 minuti è una figata pazzesca ci sono persone che mi hanno detto che hanno pianto durante un esercizio perché io faccio un esercizio all'interno del webinar e ci sono persone che mi hanno detto Fabio io durante l'esercizio che hai fatto fare mi sono messo a piangere quindi non sono le cazzatine da oh guarda guarda il mio cellulare scrivi questo messaggio oh 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 vaffanculo scusate ok sono cose che funzionano sempre cioè a prescindere dal dal mezzo che stiamo utilizzando allora io direi che se non ci sono domande io vi ringrazio tanto per aver sentito le pazzie di questo fuori di testa e ci riaggiorniamo domani sera alle nove e mezza quindi stesso orario mi raccomando e ringrazio soprattutto a chi ai bravissimi che sono qui ma i sette messaggi del rimocchio perfetto me li dai fantastica ne sa certo che te li do e ringrazio voi che siete stati qui ad ascoltarmi e i tantissimi che poi invece indifferita mi ascoltano io pure di solito sono uno di quelli che guarda le repliche fino a un po' un po' di tempo fa proprio il concetto di stare in una diretta mi ma che cacchio è aspettavo la replica vedevo la replica e mi sentivo tranquillo insomma un po' come si usava con le partite di calcio in bianco e nero con Bruno Pizzul che parlava no e no perché c'erano le televisioni in bianco e nero ma perché in ogni casa molti anni fa c'era sempre un televisorino magari quello della stanza in bianco e nero no perché sono nato nel 1950 ovviamente ok perfetto allora grazie e ci vediamo domani in novembre